Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo, prevediamo una giornata di venerdì nel complesso buona inizialmente sulle nostre regioni, con ampie aperture del cielo c'è un debole anticiclone, ma guardate come nel pomeriggio focolei temporaleschi sono attesi sull'area alpina, dorsale appenninica, ma dei fenomeni un peggioramento atteso anche sulle pianure di nord ovest, ancora correnti umide in quota che apporteranno dei fenomeni tra Piemonte e Lombardia. Andiamo a vedere la prossima grafica perché inizialmente la giornata sarà di bel tempo, con ampie aperture del cielo, tutto abbastanza tranquillo, poi nubi via via in aumento da ovest, proprio sulle nostre regioni nord-occidentali, nubi alte di passaggio anche sulla Sardegna. Infine l'ultima grafica ci conferma una giornata buona, a parte qualche temporale sulle montagne del centro Italia, attenzione però dalla sera guasto del tempo al nord ovest con dei fenomeni in arrivo, temperature comunque prettamente primaverili.